Ancora esalazioni mortali, ancora vittime sul lavoro, ancora a Molfetta. Nicola e Vincenzo Rizzi di Bitonto, padre e figlio di 53-28 anni, sono morti questa mattina durante le operazioni di pulizia di una cisterna nell'azienda di prodotti ITC di Dio, nella zona industriale di Molfetta. Un altro figlio, Alessio, ricoverato a Bisceglie, non sarebbe in gravi condizioni. Stando alla ricostruzione, Alessio, nel tentativo di recuperare il coperchio di una cisterna, sarebbe caduto all'interno della stessa, ma si sarebbe sentito male a causa delle esalazioni. Il padre e l'altro figlio sarebbero intervenuti per soccorrerlo, rimanendo a loro volta in difficoltà. La causa della morte pare sia stata però l'anegamento, visto che la cisterna non era completamente vuota. Il giovane, rimasto ferito, è stato rianimato e trasportato d'urgenza in ospedale dagli operatori del 118, ma a quanto pare sarebbe fuori pericolo. Sul posto, oltre ai soccorritori, vigili del fuoco, carabinieri e il pubblico ministero, Mirella Conticelli. La vicenda ricorda da vicino il dramma della Truck Center, azienda che ha sede a pochi metri dalla di Dio, sempre nella zona industriale di Molfetta, dove a marzo del 2008 morirono 5 persone, anche in quella circostanza, uccise dalle esalazioni sprigionate da una cisterna di Zolfo. A Bitonto, la città di Nicola e Vicenzo Rizzi, il sindaco Michele Abaticchio ha proclamato per domani il lutto cittadino, anche a Molfetta il primo cittadino Paola Natalicchio ha proclamato il lutto.